Il 27 luglio, che è un martedì, saremo a Baia Flaminia al Bagnacciuga e sarà una serata di musica e parole. Sarà una serata divertente dove ognuno può intervenire semplicemente o per cenare o per curiosare o per indossare magari qualche maglietta che poi ha un futuro di donazione. Quindi la storia nasce attorno a un brand che voleva contribuire alla ricerca per i tumori femminili e nasce dall'unione con me, che sono una musicista e che dopo la pandemia, in mezzo alla pandemia, avendo interrotto la mia attività lavorativa principale, ho deciso di catartizzare anche la malattia della mia mamma che è avvenuta nello stesso momento. C'è stata questa congiuntura fortunata con una collezione di parole che fossero a supporto di un volersi bene delle donne, di un sentirsi al centro della propria vita, di farsi forza e di sentirsi belle a prescindere dalla taglia e dalla condizione. Come si fa per partecipare? Si prenota direttamente al Bagnacciuga in Baia Flaminia oppure si scrive al numero 349 23 73 645. Come prima è un'associazione di donne oncologiche malate di tumore al seno, questo è ciò che ci accomuna. È un'associazione ormai presente sul territorio da 30 anni perché nasce nel 90. La nostra caratteristica è quella di sostenere psicologicamente soprattutto le donne che si trovano sole ad affrontare la malattia. Subito dopo la chiusura della pandemia abbiamo avuto la fortuna di conoscere due ragazze che come noi si rapportano nei confronti della malattia con la stessa consapevolezza dando un tocco di leggerezza a questa situazione così pesante che è di grandissimo conforto, di grandissimo aiuto a chi sta affrontando o chi ha affrontato la malattia perché comunque tanto ti rimane sempre dentro.